Salve, sono Ciccia e Pasticcia Allora vi faccio vedere cosa mi hanno portato i ragazzi dalla Thailandia Sei mesi fa Sei mesi fa Quindi le cose stanno quasi per scadere Poi vediamo la scadenza perché non voglio andare a fine in ospedale Allora qui c'è una specie di cornetto Mottino Mottino non esiste in italiano Il piano a brioche E' il thailandese 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 Allora ve lo dico in inglese Scusa che signifio 25,11,60 Che poverini Il tuo è scritto 25,11,60 Che c'è che vuole dire? Ragazzi guardate Questo è un dolcetto alla crema di fagioli Vero? Sì Ah questo è così Comunque se buttiamo tantissimi piriti Così il buco della rosola si allarga ancora di più Poi abbiamo qui Questo è buono E' il pesce essiccato Questo è il pesce essiccato dice lui Perché come ben vedete non si capisce Però c'è disegnato il pesce Qui c'è un altro Che questo è questo scade il 25 Questo è il 28 Ultimo Vediamo 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 quello che scade il 30,02 Se sono ben vinto Qui c'è un succo Non so che cos'è Non lo so Andiamo 25,05,18 E' il 27 maggio questo scade Questo è cos'è? Questo è uno dei snack dolci Perché c'è scritto snack sweet Quindi penso che fiume le torce di scherzare No la gelatina Ma qui c'è la gelatina E questa è un'altra cosa Iniziamo ad aprire Stiamo aprendo adesso Ragazzi i miei vermi li avete buttati Sì Sì Volevo fare assaggiare ad Angelo L'avevo buttato Vi peccato hanno buttato i vermi Pronta? Pronta? Dai dai mi non so Ah Oh Oddio con questo Ti mangierete pesci Questo mio figlio con questo ce l'ha pescato Ti mangierete pesci ti giuro Odorati ti giuro Aspetta qua Ci sarà Ci sarà Sì Ma devi assaggiarlo No non ce la faccio Dai Sembra il mangiare che si mette nei pesci Ma che se ne mette l'unico di pesci Infatti c'è schiccio un po' di petto C'è no? No Ah vabbè io assaggio ragazzi Comodo Dai Dai uno all'uno Tocca se ne ha finziare Dai ne ha finziare Oh ragazzi sembra il mangiare delle tartarughe E' piccante E' piccante E' piccante E' piccante Voglia? E' piccante E' piccante E' piccante E' vomito Mia nonna quando si mangiava la pasta con i ragioni Ciotti E' un regalo E' un regalo Dai benghi assaggio Dai un po' Assaggio Questa cosa è immangiabile Bento A bento Bento Assaggio dai Bento Spostati perché poi sfudo Non sputare No non sputare Ti abbiamo lasciato di me Dai La telecamera Quanta cosa c'è da mangiare ancora? Non sta bene però Mi passate un po' di forbici Non riesco a capire Se è buono o se fa schiccio Non lo so perché c'è il pepato E' buono qui? E' buono qui Questo va più schifo ancora Ok Questo è il pesce bollito Ed è sticcato Ma perché tu non ne stai assaggiando? No io ce la ci stifo Ma perché non metti i piedi Meglio il peggio di questo Ma perché Ti ricordi che c'erano i bambini che se li mangiavano per strada Vero? Sì, vero E vabbè ok Noi siamo abituati con le melanzane ammottonate Sono tipo patatine Dai Facciamo un peggio Ficcia si è il tibero Maga Non so di pesce Leo vuoi assaggiare anche tu? No le lascio La nostra Il peperacqua La fottina è l'acqua per vomitare Sì Ragazzi i vermi erano più buoni Sì 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 Quella la vomita tutto Io mangio Ah Geratina Sì Ah Geratina Guarda c'è prima tu Non l'ho mangiata Come? Non le lascio ma che buona questa Dai va bene questa Questa si può mangiare Sì c'è tese te Questa è buona Vai con l'altra puzza pronta Questa è nera Oddio Oddio cos'è sta cosa? Fa odore No è peggio di tutti questo Ragazzi veramente Cioè la gente si monta queste cose Fa vedere com'è Fa vedere com'è Ma per questi sono secchi anoressici Sembra No Sembra Sai che sembra È un'alga tipo No sembra il Il filtro che si mette alla tappa Eh bravo Bravissimi Il filtro Lo sai che non mi piace Vieni ad assaggiarlo Fabio No Come si fai il panzino? No Dicei che sono brutti No ti giuro Fabio Per coraggio No Che sfida Ma c'è un volontario qua che vuole provare Mi serve non di al video Fabio Per Forza di cacca Aspetta Non c'è mai mangiare Gelatina Mangatemi la gelatina Mangatemi la gelatina Mangatemi la gelatina No Questa cosa è bruttissima Vermicelli Clean soup Ci vuole acqua calda È il nostro piatto Guarda che carino Oh Guarda che carino Ferma Ci sono dei condimenti Non è gommi Quella è pasta Non so che è la pasta La forchetta La forchetta La forchetta Si guarda Ma lo sai Vito di Ugaldini Guarda Si forma la forchetta Si Eleonora è preoccupata Perché Viaggio di nozze Andrà in Thailandia E ha paura che dovrà Mangiare queste cose Stai a prendere il pagottino Con il ripieno di fagioli Per quella Ma se vuole scarreggi Ma se vuole scarreggi Ma se vuole scarreggi Sei scurrita No no È scorreggione Non è scorreggione Sei scurrita Abbiamo lavato un po' Mi potrei Oh 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 L'onore è gradevole Ma sono dolci comunque Eh ma ci sono denti di fagioli Chissà se c'è pure mia nonna Dita Ah 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 È shaft L'apriamo Ma c'è un po' E' dura È verde È mollicchia È molnigce No tu lo puoi mangiare Guarda Maga Tu cosa hai assaggiato prima? Ma questo A 10 La testa questo è più buono ma i fagioli non si sentono con la gelatina finale vi salutiamo vi salutiamo vi appuntamento al prossimo video seguiteci sul nostro canale palermi travel finalmente siamo riusciti a trovare un nome definitivo speriamo lo speriamo e a tutti buona gelatina aspetta aspetta no il mattino lo scontro dei mattini tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu tu-tu-tu-tu